coniugniamo insieme il verbo lavorare, è un verbo di prima coniugazione perché? perché finisce in "-are", tolgo "-are", mi rimane questa radice che è il lavoro, su questa radice costruisco il presente, io lavoro, tu lavori, lui, lei lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano, passato prossimo, due parti, la prima parte è il presente indicativo del verbo avere, la seconda il participio passato di ogni verbo, in questo caso è lavorato, tutto insieme, io ho lavorato, tu hai lavorato, lui ha lavorato, noi abbiamo lavorato, voi avete lavorato, loro hanno lavorato, il perfetto, quando lo uso, un ricordo passato di tanti anni fa, ad esempio di quando ero bambina, e il perfetto è io lavoravo, tu lavoravi, lui lavorava, noi lavoravamo, voi lavoravate, loro lavoravano, domani, un progetto, un'idea per domani, un solo futuro semplice, io lavorerò, tu lavorerai, lui lavorerà, noi lavoreremo, voi lavorerete, loro lavoreranno. Alla prossima.